Mulei, poco fa Salvini dice, interrogato sulla vicenda dell'arresto del presidente Totti, dice Totti indagato, beh che c'entra? Anch'io sono indagato per gli sbarchi, quindi sono tutti innocenti fino a prova contraria, quindi diciamo la butta anche sulla sua vicenda. Lei peraltro lo conosce molto bene, è stato anche suo collega giornalista. Sì, sì, ci sono stato un collega giornalista. La stupisce questa inchiesta arrivata in questo momento o no? Guardi, è da tempo che intorno ai finanziamenti, a quello che succede in Liguria, c'erano voci e non solo voci, c'erano anche dei procedimenti per cui non è che il famoso fulmine al Celsereno. Poi ovviamente la portata delle accuse che avete letto è tale che oggettivamente... La parola delle accuse e anche e soprattutto, mi permetto scusi di sottolinearlo, è il fatto che il presidente sia agli arresti domiciliari. Cioè non è un'indagine, uno dice già un'indagine... Però guardi, mi faccia dire, cioè ne parla uno che con Toti ha avuto rapporti totalmente non idilliaci dal punto di vista politico, anzi. Per usare un eufemismo. Esatto, anzi. Però mi lasci dire, l'arduo ma orgoglioso compito di chi è oggettivamente garantista sta nel dire stamattina che Giovanni Toti è innocente fino a quando non ci sarà una sentenza che ne eventualmente individui la colpevolezza. Questo dal punto di vista giudiziario, per cui il comunicato stampa, gli accusi, dà l'idea di una parte. Adesso vediamo e verificheremo come si giustificheranno, cosa avranno da dire eventualmente per scaricare questo, come dire, fardello di accuse. C'è un primo giudice che ha valutato... Garantismo a parte, ma secondo lei dal punto di vista politico si deve dimettere o no? Sono due cose diverse. Dal punto di vista politico è un'amministrazione con un presidente in carcere difficilmente può andare avanti. quindi in carcere, nel senso gli arresti domiciliari, privato della libertà e quindi privato di poter agire e fare l'amministrazione. Il capo di gabinetto è addirittura in carcere, quindi immagino che adesso Giovanni dovrà fare delle valutazioni e riflessioni che sono sue e solo sue, ma conoscendole... Sono anche politiche della sua maggioranza, però no? No, ma sì, nel senso che guardi, non sono politiche della maggioranza, sono sue, deve essere lui. Anche della maggioranza che lo appoggia, no? Se tutti gli assessori improvvisamente si dimettessero, la giunta... Tecnicamente, se la giunta si dimettesse tutta... Ma sarebbe un'anticipazione di giudizio, guardi, peraltro il governatore si dimette a lui, se lui si dimette cascano tutti. Se lui non si dimette, lui può anche cambiare tutti gli assessori, gli assessori possono dimettere, ma sta a lui e solo a lui la decisione di... Perché lui, anche dai domiciliari, può continuare a fare il presidente di legione e rimane plenipotenziario. Dice soltanto che alla fine nel primo grado di giudizio, con condanne superiori, mi pare di ricordare, a due o tre anni, eventualmente scatta la sospensione. Prima di ciò non scatta... Andiamo in diretta da Genova.